Lea Lo Whisper A-S-N-N-N Ciao ragazzi, come state? Spero bene, spero che abbiate il passato bellissimo Natale Allegro, è sereno e rilassante Abbiamo di nove cavalli, lo sapete in questa casa Bene, eccomi, finalmente tornata Scusate la luce ma vi spiegherò poi Perché sono cambiate le alcune più che altre appostazioni Nella luce non ho potuto fare di meglio Non ho spaventato per i miei capelli Vi faccio vedere il taglio C'erano dei problemi, quindi ho fatto due colorazioni Quindi, bionta, sono anche bionta davanti Solo che sta luce, lo sento un po' più a letta Ovviamente era un po'... è stato un po' un problema Ma sui capelli taglio un malfatto colore a macchie Io che sono scura, un po' un po' un problema Teniamo di andare avanti Perché ho una sigaretta che mi sa... Scusate, devo accendola Sapete che nei Pillow Talk io fumo Ma questa volta fumo Perché è una richiesta che mi ha fatto da poco Sulla comunità del mio canale E che volevo salutare Lo saluto molto volentieri Si chiama Marco De Vicentis Un bacino tesoro Si crede? Ok Allora, è un po' difficile fare a mente di tre mesi Però chi mi ha seguito Scusate dei rumori molesti Ma sono i 18.33 E quindi è un serio problema Che non ci siano Oltre che sapete che io ho un palazzo proprio Dove la civiltà è un'opzione Ok? Allora Ci tenevo prima del 2020 Farvi almeno gli auguri Tipo un anno Non ho potuto nemmeno far vigore di Natale Perché purtroppo stava finendo il post operatore Taster In questi tre mesi È successo di tutto Quindi Chi più o meno Mi ha seguito Ha saputo un po' un'idea L'idea è che io ad agosto Ho iniziato una convivenza Che non era nuova Però Una convivenza non facile Perché Quella precedente Sempre con la stessa persona Diciamo Non c'era Duster Ormelo Non convivenza Non convivenza Ancora insieme Duster molto iperattivo Anche di notte Quindi voleva dire Che Rudy Zompava in piena notte Rincorrendo i gatti Di giorno Saltava Comunque Ancoro Quindi insomma Ci sono stati già Problemi Tra di noi Poi Quel frattaggio Decisione Non decisione Io qui lo dico Perché Io ho scritto un post Poi è stato preso Giustamente così Ma non è stato così Leggera la situazione Anzi Io ho fatto Un enorme sbaglio Ma l'ho fatto In una situazione Di stress Assoluto Cioè Per un anno Cioè Da 2018 Che è arrivato Duster Io ho fatto tutto Prima di essere bene Ma ne ho stesso bene Il tempo I gatti Non sono stati bene Soprattutto Milla Che ha subito Un lavoro di stress Tanto che Ha venuto Perso tutti I peli Della Sulla pancia E che Soprattutto Lei ha problemi Anche Scendere per bere Che gli ha dovuto Fare un piano Ovviamente E mangiare in alto Per andare in bagno Perché appena Lo vede Che Scendono Lì rincorre Perché Certo Non vorrebbe giocare Ma Milla È drammatizzata Quindi È già Solidaria È drammatizzata Lei o bene o male Se Ci gioca un po' Ma poi Se rompa le scapere Che continua Allora Lo picchi E si fa male Duster E Quella situazione Lì Più che la mia È meglio la famiglia Da parte Di mia sorella Ovviamente Io ho fatto Una cosa Brutale Che Adesso Ho difficoltà Insomma Perdonarmi Di questa cosa Ma eravamo In situazioni Critiche Allora No Si dormiva Non dormiva Il mio compagno Che doveva lavorare Non dormivo io Quindi Quando non dormi Non uno Non due Non tre giorni Ma vai avanti Così I nervi Vanno Accetera Poi Vedevo Ovviamente Duster Era da una parte E il preparativo Poi diventato Completamente triste Causa anche Di Alcune Situazioni Un po' No ma Giattamenti Però Di stress Da parte Si Mila Che La vedevo Bloccata Insieme a lei Ho un tormento Sopra Un anno Che dormono Sopra Da Tittoria Del passeggino Quindi Non vederli Più Camminare Correre O comunque Giocare a ballina Poter camminare In casa Ma sempre Bloccati Lassopra Era un'altra Soperenza Cioè io Non ho saputo Soffrire Duster Ma soffrivo Anche per loro Non ci soffro Ancora E penso A quale soluzione Quale soluzione Quindi si In qualche modo Si poteva dire Che si dava tanto Via Duster Con il cuore Veramente a pezzi Anche In cui lo ammetto Perché Mi avevano parlato In famiglia Nonno Cantione Fugio Di gente Che lo avrebbero preso Nel frattempo Dove io Avevo preso Duster Si era allarmata La signora Che siamo sempre In contatto Per cercarli Una buona famiglia E poi È subentrata A famiglia Di mia sorella Con quella Famiglia C'era così Si tranquilla Tutto Quanto In famiglia Invece No Invece Di che cose Sono cambiate Il quanto Perché Diciamo Che questa Persona Della famiglia Da quanto Ha preso Duster Con Un po' La nostra Sul Lato Non Mi Volevano Nel senso Un po' Stavacchetto Comunque Non mi Volevano Non mi hanno Fatto Una foto Non mi Volevano Dire Il nome Di questa Persona Della Volevano Che Non posso Dire Particolari Aspettavano Solo Che io Facessi Il cambio Perché Era cipato Ed Cipato Intestato A me Io ero Di lacrime Per i due giorni Voglio una foto Cioè Tu Qual è il problema Sei così felice Perché Occhissà Si è felice Perché Sei fumatissima Si è liberato Enorme Ma Sei felice Perché Non mi Fai Vede Una foto I fattori Io Mi sono Cidata Perché Mi sono Chiesta Ma Non so Ti è successo Qualcosa Perché Non mi Fanno Una foto Perché Chi ci Dà Non vuole Il film Diretto Con me Che Vi posso Dire Che I problemi D'assita Per esempio D'assita Ha Un Ristringimento Tra Le Per cui Bisogna Stare Attento A farlo Uscire Fuori Quando Fa Freddo Se Non Coperto Bene Tante Cose Potevo Dare Tante Informazioni Potevano Essere Utili Invece Solo Che Si sono Comportati In un Terminato Modo Negavano Tutto E Pensavano Solo Al Cambiamento Di Intensazione Del Stato Illuminativamente Di No E Io Non Sapevo Chi Aveva Il Mio Cane Non Ci Ho Visto Ho Ditto Ok Voglio Toaster Qua Tra Due Giorni Non Vi Dico Che Sestematizzato Ho Minaggiato Pure Minaggiato Con Carabinieri Stato Madissimo No Soprattutto È una mia Oltretutto In generale La mia Fabia Quando le cose Non sono Pulite E non Vedo Ragione Perché Non si Fossa Dire Qualcosa Certo Il mio Cane Tu Hai Perso Un cane Come Fai Non Capire Perché Io Secondo Stato Io Ma Tu Non Sei Niente Della Mia Situazione Non Sai Qual Era Che Stato Oltretutto E Perché No Io Non Ho Dato Via Nessuno È Vero Volevo Su Bene Pensavo Che In Una Situazione Sarebbe Stato Meglio Visto Che Tutti C'è Un cane Che Deve Correre Se Si Favere Sbatte Non Passavano Riuscite Oltretutto In Aria Non Si Poteva Pior Portare Scusate Ma Sono Vistato Un Trampusto Perché Non Era Solo La Sofferenza Che Non C'era Più Taster Vicino A me Ma Addirittura Dover Essere Costrette A Minaggiare Per Riaverlo E Non Passava Proprio Stato Brutto 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 Poi Comunque D'Aster Visto È Stato Via Solo Quattro Giorni Solo Per Me Sono Stati Una Vita Però Sono Stata Quattro Giorni Perché Poi Me L'hanno Riportato Me L'andavo A Prendere Comunque No Non C'era Quindi Lui È D'ottobre Che Com'è Insomma Tutto Questo Dopo Voi Immaginate Da come Vensi I problemi Tra me E Mi Compagno Il Problem Taste Per Attivo I problemi De Cate Cate Che Fanno Male La Scrivonia Che Avevo Preso Perché Come ho detto Ho preso Questa Scrivania Mi è caduta Attosso Sulla piega Del comito E che Vuol dire Che la Lezione Distale Mi ha colpito La stalla Perdita Di forza Della mano Dolori Tremendi Avevo Una casa Che non si Poteva dire Perché Non potevo Neanche Lavare Scopare Un pavimento Lavoro Niente Quindi Eletromiografie Ecografie Tutta Una cosa Di questo Genere Quindi Vabbè Anche Il braccio E' andato In questa Situazione Qua Dopodiché Dopo Il braccio Compiuta Che mi stava Non si Vedeva Più In Connessione Desastre L'intervento Perché Abbiamo Deciso Di Fare L'archetomia A taste Non Perché Si Calmasse Questo Intervento Servebbe Per altre Ragioni Più Che Altro Proprio Per Lui Perché Portarlo In Aria Non Si Poteva Più Portare Lui Né Di Mattino Né Di Pomeriggio Uscire Solo Di Sera Appena Vedevo Un cane Mamma Mia Ringhiava Come Non so Che Cosa Mi Faceva La Bibì Pare Che Non l'ha Mai Fatto Ma Tutta Era Una Questione Ormonale In Casa Dopodiché Immaginate A stare Peggio Dietro Di Un Bambino Perché Non Sesse Così Che Appena Nascendo Si attacca Con i Gatti Gatto Finisce Nell'acqua Una Continuazione Il posto Portori È stato Tremendo L'ho finito Due giorni Fa Anche lì Senza Dormire Sveglia Almeno Io Stavo Sveglia Già Che Ho Sonno Però Ho La Paura Fa Le Medicazioni Anzi Medicazioni Anche se Poi alla fine Mi hanno detto Che Favano Bellissima Ferita Grazie Le Medicazioni Ma Mi Si è Stretto Il cuore Perché Un conto Fatto L'essere Umano Ma Su Taster Mi Faceva Impressione Dovevo Stare Attenta Che Non Si Accettasse Perché Non Si Formasse Si Forma Intorno Si Formato Un'eperemia Poi Da fine Niente Che Li Dava Fastidio Quindi Chiama Anche Pronto Soccorso Di Notte Che Lui Fermo Non Ci Sta Vederlo Con Piangeva Cioè Sentassere Un Pignicolone Però Aveva Tutte Le Ragioni Io Cosa Potevo Fare Gli Ultimi giorni Io Te Llevo Per La Passeggiata Poi Io Devo Rimendere Fortunatamente Adesso È finito Domenica L'hanno Dotto I Punti Ieri L'ultimo Dove Ancora Tenere Lì Questo Collare Oggi E E Noi Tutto Felice Memori Di Questa Situazione Che Si Ho Formato Con Duster Non È Stato Cacciata Nel Il Complimento Del 12 Dicembre E Natale È Stato Tristissimo No Ho L'ora Tristarvi Quindi Cosa Per Sintesi A Natale Finita Mia Pienezza Io Non Mi Dico Ma Che C'è Ancora Che Mi Devo Succedere Non Lo Voglio Dire Perché Ne Sono Di Cose Che Posso Succedere Ho Perso Lavoro Che Questo E Faccio Di Da quel Momento Mi sono Dedicato Un po' Alli Obbili La Tarologia Al Mondo Esoterico Che Vorrei Portare Sul Canale A Chi Magari Scusate I Mie Rumori Castelli So Che Qualcuno Danno Fastidio Ma Non Da Postidare Mi Aiutare E Quindi Stavo Dicendo Vorrei uploadare Questi Video Poi C'è Da Chi Non Interessato In Versione ASMR Chi Non Fosse Interessato Non Le Guarda A Parte Che Farò Qualche Video Per Vedere Poi La Per Canale Parte Quindi Non Vi Preoccupate Sicaretta Per Marco Ok Chiaro L'avanzo Che Io Saluto Tutti Quanti Voi Eh Certo Ve l'ho Detto Scrivetemelo Però Avete Qualcuno Lo Scritto Solo Che Non Ho Avuto Per Dono Chiede Almeno Che Questa Persona Non Ha Avuto Tempo Di Guardare Il Telefono Queste Sono Più Meno Le Novità Quindi Penso Che Adesso Più Meno La Casa L'ho Messa A Posto Diciamo Diciamo Dopo Inizio Anno Nuovo Ritorneranno I miei Video Vi dico Solo Se Vuete Sostenere Il mio Canale Spotticiate Dopodiché E' una Cosa Che Tra Una Cosa E L'altra Ho Pensato E Mi Stresso Io Mentalmente Mai Nuove Niente Non Mi Interessa Tanto Sono Cosciente Il mio Canale Non Crescerà Sia Per L'assenza Che Io Ho Comunque Lasciato Perché Non Potevo Cioè Meno Sia Perché Mi Rendo Conta Tante Cose Quali Sono I Canali Che Crescono Almeno In Compagnia O Rilassarmi Bene Allora Anche Per Farvi Diciamo Un aggiornamento 20 minuti 16 Allora Facciamo Una bella Cosina Sono Le 18 50 Quindi Per Stasera Lo Vete Aperte Chiudo Questo Video E Taste Permettendo Perché L'ottava Volta Che Provo A registrare Lui A taglia Posso Farvi Perché Ho Fatto Di Agostini Così Posso Farvi Devi C'è In Del Stasera Perché Non Ho Programmato E Sono Arrivata A Tutto Far Le Posizie Per Adonatemi Poi Ci Sarà Il Video Di Tutti Saludini Quindi Mi Farà Mi Farebbe Piacere Anche se Capisco Che Potete Vedere Piondo In alto Perché Qua La Luce Così Sucitano Anche Critiche Costruttive Come Mi Trovate Toglio 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 Non Mi Fa Una Faccia Tanto Ma Questa Anche La Telecamera Va Bene Come Avete Passato Il Natale Insomma Raccontatemi Un po' Di Toglio Allora Io vi mando Tanti Tanti Pagini Chiudo subito Per registrare Un Un Altro Video Che Sarà Uno Show In Del Di Wiko Di Wiko Però Prima Vi faccio Dare Un Che Sono Crepe Un Che Per Adesso Allora Per Per Allora Per Luce Io Ho Fatto Quello Che Ho Potuto Ma Così Tanti 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 Pagini E A Braccini Saluto Tutti Voi In questo Video Saluto Marco Della Magna Un Pagino Tesoro Che Sto Vivendo Un Perito Bruttissimo Io Ti Sono Vicina Lo Sai Come Sempre E Sono Vicina Sempre Tutti Quanti Vai Per cui Ci vediamo In un prossimo video Che registra Subito E Sarà Un Scendere Nel Di Farci Qualche Qualche X Crecina 3 Lea Lo Whisp Citroë A S M M B